Questo corso è stato una magia da quando sono entrata e fino a quando sono uscita. Poi ho sentito che si è lavorato tanto su di me, nei punti dolorosi che ce l'ho io. Toccare l'altro mondo e sciogliere tutte queste paure e entrare nello stato divino per me è stato qualcosa che è inaspettabile davvero. Ho fatto tante meditazioni e corsi però è stato il massimo davvero. Non ho mai sentito così fortissimo tutto quello che ho sentito in questo evento. Perché si apre un mondo e perché sento che si sta formando un movimento e noi siamo dei piccoli, delle piccole, non lo so, come ai scacchi. Noi siamo quelli che dobbiamo portare più avanti quello che inizia. Per me la prima cosa è stata arrivata la magia prima di arrivare qui perché io ero senza soldi e ho messo in pratica quello che ha detto la Patrizia di chiedere aiuto agli essere di luce, basta mettere il desiderio di essere e arriverà. Infatti questi soldi ai miei mi sono stati regalati per poter arrivare qua e questo è stato già un grande miracolo. Poi mi sono arrivati un po' di risposte che avevo, adesso non mi ricordo tutto, però davvero ho visto delle cose speciali che magari rifletterò più tardi a tutto quello che ho visto e sentito a questo corso. Grazie a Patrizia, grazie a voi tutti.